Ciao! Allora, oggi vi recensisco l'acqua micellare struccante viso, ocche e labbra senza risciacquo dell'acqua delle rose della Roberts. Il prodotto in questione è questo. Allora, qui dice 95% origine naturale con acqua distillata di rosa senza parad beni e senza saponi. La scadenza è di 6 mesi dall'apertura, ci sono 200 ml e io l'ho pagata da acqua e sapone a 4,50 euro, ma credo che il prezzo cambi in base a dove l'acquistate. Di solito questi prodotti non hanno un prezzo fisso. Questo prodotto mi sento di promuoverlo appieno perché strucca ma non bisogna tirare per struccare. Strucca in modo molto semplice. Io sinceramente non lo uso per gli occhi, anche se strucca bene gli ombretti, come vi farò vedere fra poco. Magari il mascara un po' meno, però la pelle, quando strucco il viso, io la uso prevalentemente per struccare il viso, lascia il viso proprio idratato. La profumazione è un po' fortina, è appunto allerose e potrebbe dare fastidio a molti. Io sinceramente non ci faccio tanto caso, anche se sono molto sensibile riguardo gli odori. Ma devo dire che non mi dà particolarmente fastidio. Comunque passo a farvi vedere come strucca. Allora, concludo questo video in maniera pietosa perché nel durante ho deciso di farvi vedere anche come strucca il mascara. Quindi sono rimasta con un occhio struccato e un occhio no, quindi stendiamo un velo pietoso. Comunque, come avete potuto vedere, nello struccaggio strucca bene anche il mascara. Quindi il mio voto per questo prodotto è, lo so, ma per me è ottimo, cioè è 10. Perché mi strucca bene il viso, mi lascia la pelle super idratata, strucca gli occhi, le labbra senza problemi. C'è scritto che il 95% di origine è notara naturale, non so se sia vero, però già è qualcosa. Quindi per me questo prodotto, appena lo finirò, lo riacquisterò sicuramente. Quindi questa era la mia video review dell'acqua micellare della Roberts, della linea Acqua delle Rose. Fatemi sapere quale prodotto volete che io ricensisca, cercherò di farlo. Noi ci vediamo al prossimo video, vi mando un bacio e alla prossima. Ciao!